Ciao gentaglia, sono ShotaHateU e questo è Breaking Italy, uno show che sto registrando molto tardi per due ragioni Uno, consiglio avanzato per tutti i videomaker, direttamente da Shy, gratuitamente Quando mettete a caricare la batteria della vostra fotocamera, controllate che il caricatore della batteria sia poi attaccato alla corrente Altrimenti non funziona, chi lo avrebbe mai detto? E due, devo smetterla di guardare gameplay di Starbound, che per chi non lo sapesse è un gioco che io aspetto da millemila anni La quale Open Beta dovrebbe essere rilasciata presto e sono sicuro che sarà un gioco splendido Che si porterà via centinaia di ore della mia vita, più o meno come ha fatto Minecraft, solo probabilmente di più La prima cosa però della quale parliamo oggi è Van Damme, che sceglierò come sponsor ufficiale del weekend che sta arrivando Visto che è apparso in una fantastica pubblicità della Volvo, non credo di dover dire nient'altro oltre queste immagini Van Damme vince il premio uomo del weekend, perché il premio donna del weekend invece lo vince questa signora giapponese Oggetto di molestia sessuale, perché questa è una molestia sessuale Che piaccia o non piaccia, che inconsapevolmente davanti a una videocamera riempie di schiaffi Questo tizio aiutata peraltro dalla figlia, sicuramente non si aspettava quel tipo di reazione Probabilmente ha detto ok sta uscendo, me l'attento, magari se ne va indignata Invece l'indignazione è diventata schiaffi E quando l'indignazione diventa schiaffi normalmente è un good times, almeno in questi casi Quindi buon venerdì gentaglia Ed è effettivamente un buon venerdì Visto che in Canada la polizia è riuscita a sgominare un gigantesco traffico di materiale pornografico Mettendo su un'operazione che si chiama Project Spade E che ha visto 384 arresti in tutto il mondo Al centro di tutta la vicenda c'è un tizio canadese che si chiama Brian Way, 42 anni Che ha messo su una simpatica aziendina che si chiamava Azov Films E che tramite il sito appunto vendeva dei film su DVD sotto richiesta dei compratori Tutto anonimo, vi mandiamo addirittura il pacchetto completamente anonimo Così nessuno dei vostri vicini saprà che state comprando materiale che non è pornografico Ma sul sito veniva definito naturista Qualsiasi cosa questo significhi Ma dietro la parola naturista è quella di completamente legale in Canada e negli Stati Uniti Che per chi se lo stesse chiedendo no Erano video con bambini Si pensa a oltre 400 bambini Che venivano utilizzati per le riprese di roba Che è stata definita dalla polizia canadese come child pornography Quindi naturismo La cosa fantastica è che delle 348 persone arrestate in tutto Solo 108 erano canadesi 76 statunitensi e 164 Venivano da altri 94 stati del mondo Compresa l'Italia E se ve lo steste chiedendo la demografica dei compratori è come al solito molto varia Compresi medici, insegnanti e preti Persone che potrebbero avere a che fare con i figli di chiunque in qualsiasi momento Quindi il mondo rimane una merda Ma almeno ci sono delle persone che cercano di renderlo un pochino meno una merda Ma poi ci sono persone che lo rendono di nuovo di più una merda Anche se alle volte il destino ebbe fardo Parlo infatti di mujahidin legati ad al-qaeda Che operano in Siria e che si sono scusati Ovviamente non per tutte le cose che fanno Nel nome di una sacra e distortissima visione Di quella che è una religione che non dice affatto le cose che loro predicano E per la quale uccidono e si fanno saltare in aria e tagliano le teste E proprio di impalamento della testa parliamo Che è una cosa, lo sapete benissimo, che gruppi di terroristi fanno spesso Tagliano le teste, le impalano e le mostrano come monito Dicendo guardate cosa succede a chi si oppone a noi Peccato che dopo aver tagliato la testa di un uomo, il loro rivale Perché militante nelle forze lealiste di Assad E aver mostrato la testa a una folla esultante ad Aleppo E aver anche messo il video su internet Perché hey, è il mondo dei social network, siamo tutti connessi Guardiamoci tutti assieme video di Miley Cyrus Per qualche video di LOL rap e poi, perché no, una decapitazione Però qualcuno guardando la suddetta decapitazione ha detto Hey, ma quello lì non è un nostro rivale Anzi, si chiamerebbe Mohamed Fares Ed è il comandante di una cellula di terroristi legati ad Al-Qaeda Il che significa che sì, terroristi che rapiscono e uccidono un loro compagno Però hanno chiesto scusa Quindi, scusa Mohamed se ti abbiamo tagliato la testa Non lo abbiamo fatto apposta Cercate di essere comprensivi e di scusarci Citando invece velocemente altre cose che stanno accadendo nel mondo In Russia quest'uomo ha inchiodato il proprio scroto Alla piazza rossa davanti al museo di Lenin Per lamentare il fatto che la Russia stia diventando uno stato di polizia Che, ok, può anche essere effettivamente Ma il signor Piotr Pavlemsky o qualcosa del genere Ha pensato di portare la cosa a livello successivo Conseguentemente è stato rimosso dai sanpietrini della piazza Non so come Ipotizzo sia stata una cosa difficilissima per gli uomini che hanno visto questa cosa Mi piace pensarla così Tipo, non so, i poliziotti che si avvicinano vedono la scena Eeeh Uuuuh Sembra, sembra far male quello Poi l'hanno portato all'ospedale Poi hanno aperto un procedimento verso di lui Per teppismo Quindi credo che qui la morale sia la seguente Scegliete le vostre battaglie Combattete per i vostri diritti Però, per l'amor di Dio Tenete chiodi e martello lontani dallo scroto In chiusura di settimana mi sembrava anche giusto parlare nuovamente delle Filippine Innanzitutto, good job Facebook che ha reso palese un bottone che rende possibile donare dei soldi Per chiunque volesse farlo direttamente alla Croce Rossa Ve ne sarete accorti Basta aprire Facebook per trovare direttamente il banner sopra Tutte le cose interessanti che i vostri amici di Facebook scrivono Ad esempio Guardate Guardate Le cose Le vittime del tifone Che tutti continuano a sperare siano meno dei 10.000 Che sono stati ipotizzati Anche se ancora non trovati Sono tristemente aumentati Però la conta nel momento nel quale il registro è di 4.460 morti La maggior parte dei quali nella città di Tacloban Che è stata la parte più colpita delle Filippine E della quale non c'è più nulla Le immagini che state guardando in questo momento Sono ciò che resta della città Negli scorsi giorni l'ONU ha anche dato una tirata di redini Affinché tutte le nazioni di fare in fretta Perché queste ore sono cruciali Al fine di portare aiuto medico alle decine di migliaia di feriti È cibo e acqua pulita principalmente a tutte le persone che faticano a trovarlo in questo momento In ultimo Gentaglia negli ultimi due minuti volevo ventilare la mia frustrazione In merito a un'intercettazione che è saltata fuori oggi Trattata agli occhi, anzi agli orecchie di tutti da parte del Fatto Quotidiano L'intercettazione riguarda questa persona Il governatore della Puglia, Nichi Vendola È questa persona Che è tendenzialmente il PR della famiglia che gestisce l'ILVA Sicuramente vi ricordate dell'ILVA Se ne è parlato tanto ne abbiamo parlato anche qui su Breaking Italy È una questione molto complessa che spacca l'opinione pubblica Perché vede due cose importantissime per la vita di chiunque Specie di chi vive vicino La saieria, contraporsi da una parte Il diritto allo stare bene e al non ammalarsi di cancro E vedere i propri figli ammalarsi di cancro a causa delle esalazioni della fabbrica E dall'altra parte il diritto al lavoro degli operai dell'ILVA E cosa salta fuori tramite l'intercettazione? Niente di illegale tecnicamente Ma è semplicemente Nichi Vendola che commenta un video che in tanti hanno visto Ovvero un giornalista va dal boss dell'ILVA e gli chiede Come mai le persone si ammalano di cancro a causa della vostra azienda? Più o meno, sto parafrasando E lui risponde Non è vero assolutamente, ve lo state inventando Al che il signor PR ruba il microfono E apparentemente Nichi Vendola, governatore della Puglia Trova questa cosa ilare, anche se si sta parlando di morti E lo dice al telefono A questa persona Mi ha davvero fatto ridere E non è tanto quella mancanza di rispetto Secondo me a dar fastidio Personalmente la registrazione, ve la lascio in descrizione Mi ha fatto venire la pelle d'oca Ma è più che altro il contesto della telefonata Perché il governatore della Puglia Che dovrebbe comportarsi da governatore della Puglia Ha invece un atteggiamento molto dimesso E molto ossequioso al telefono Che poi è quello che tante persone Lamentano proprio del mondo politico italiano Questo continuo mash up tra potenti Questa sorta di complicità un po' affettuosa E servire in un certo senso di chi dice A una persona che è accusata di aver indirettamente Tramite la sua azienda fatto ammalare tante persone Ricordatevi che sono a disposizione Di al tuo capo che sono a disposizione Ci vediamo, eccetera Ripeto, niente di illegale in tutto questo Però sentire questa telefonata per me è stata un po' una delusione Di nuovo verso la classe politica Che quando tendo a dimenticarmelo Si impegna a rimarcare il fatto Che c'è un grosso problema in Italia Ed è questo Ma questo, gentaglia, è tutto quello che avevo da dirvi per oggi Grazie per aver guardato Non vedo l'ora di andare a mangiare Ho proprio il vuotino, no? Quel vuotino nello stomaco che ti fa dire Ah! Comunque, nel frattempo fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate A fianco a me ci sono Giulia e Riccardo Che sono i nostri alfieri E la nostra regina per oggi Direttamente da Amsterdam Ah ah, invece no perché era a Parigi Perché sarà la Torre Eiffel Ah, comunque qua sotto trovate Siete carinissimi ragazzi Qua sotto trovate il link a tutte le cose che ho detto Grazie mille a tutti per aver guardato E ci vediamo lunedì Buon weekend